Ciao, sei interessato a una delle nostre auto ma in questi giorni non riesci a venire a trovarci? Non c'è nessun problema, noi consulenti siamo a tua completa disposizione, anche a distanza. Come? Con due numeri di WhatsApp dedicati e sul nostro sito una chat di supporto. Troverai i numeri di telefono e uno staff di consulenti abilitati e organizzati per fornirti l'aiuto necessario per l'acquisto della tua nuova auto, anche attraverso un test drive virtuale. Non esitare a videochiamarci, con Gruppo Carmeli il rischio è zero, sempre!